Abbiamo dato indicazioni per venire incontro alle richieste di AISA, ad affermarlo Enzo Tacconi, direttore del lato Toscana Sud, intervistato da Arezzo Notizie, che conferma di aver ricevuto la richiesta di AISA di ridurre il conferimento dell'organico. Il tutto in merito alla vicenda degli odori molesti nella zona sud di Arezzo. I cittadini hanno effettuato segnalazioni quotidiane e non sono mancati i sopralluoghi di giorno e di notte. L'ultimo tra giovedì e venerdì per una richiesta di intervento partita da un'abitazione di San Zeno. Così AISA il 22 di luglio ha fatto partire la richiesta di diminuire le quantità in arrivo all'impianto. Abbiamo ricevuto questa richiesta, conferma Tacconi, ci siamo attivati con sei Toscana e con altri impianti per capire come poter eventualmente andare incontro a questa esigenza, rivedendo la nostra programmazione, ovviamente precisa, è un'attività in itinere che avviene gradualmente. Tacconi però sempre dalle colonne di Arezzo Notizie è piuttosto sicuro del fatto che la diminuzione del conferimento non potrà raggiungere percentuali alte, non c'è da sperare insomma che possano aggirarsi attorno al 50%, percentuale invece auspicata dai cittadini per avere una sensibile diminuzione dei cattivi odori.